Oggi parleremo di filtraggio dei dati e sarà un completare un discorso che abbiamo già cominciato quando abbiamo trattato il problema dell'escaping dei dati in uscita verso applicativi come MySQL SQL Injection and Company, ricordate? Ma mentre l'escaping ha come obiettivo quello di purificare ciò che esce dall'elaborazione del nostro script prima di inviarlo ad esempio MySQL, ciò di cui voglio parlare oggi riguarda l'input cioè ciò che è in ingresso al nostro script PHP, materiale potenzialmente tossico che deve essere filtrato, ripulito, validato prima di darlo in pasto al nostro script che deve elaborarlo E' giusto sottolineare che qua ci occuperemo solo della parte lato server perché il filtraggio dei dati spesso conviene inizi a livello di client con tutti quei controlli via JavaScript che possiamo fare ad esempio compilando una form Ma noi, in generale, è meglio non ci si fidi comunque di ciò che arriva in ingresso trapponendo un'ulteriore barriera In generale sono questi i nostri obiettivi cioè garantire che in qualche modo non possa essere bypassato, evitato il nostro schema di filtraggio dei dati garantire con ragionevole certezza che tutti i dati che non possono essere considerati validi siano intercettati e quindi rifiutati e idealmente essere anche certi della provenienza di questi dati Per soddisfare il punto A dobbiamo lavorare sulla struttura del nostro codice e seguendo la guida che ho trovato sul phpsec.org che più volte ho citato i metodi principali sono due E iniziamo con il cosiddetto dispatching, cioè della consegna tanto qui vedete i credit al sito che ho citato prima Pensate a quanto sarebbe caotica la gestione della corrispondenza all'interno di una ditta se il postino, il corriere potesse consegnare a chiunque la busta con la lettera o il pacchetto in un ufficio qualsiasi e sperare poi che questo venga magari prima controllato potremmo essere un ufficio del pentagono e consegnato alla persona giusta Non può funzionare così Quello che succede è che c'è un centro di consegna che dopo aver verificato la natura innocua della busta o del pacchetto lo instraderà alla persona giusta all'interno dell'organizzazione e questo garantisce che nessun busto o pacchetto possa sfuggire al controllo In che architettura del codice si traduce tutto questo? Nella cartella del sito avremo un solo script php che fa in un certo senso da reception accetta qualunque cosa dall'esterno richieste per svolgere compiti particolari e in strada verso altri script Poiché dall'esterno tutto sarà indirizzato tramite un URL verso questo script qua al suo inizio potremo mettere in pratica tutte quelle misure globali di sicurezza che abbiamo visto nelle lezioni precedenti e proprio per questa architettura non c'è modo di evitarle Tutte le form o comunque in tutti i modi in cui si può indirizzare l'utente a questo script dovranno avere questa forma e cioè avere specificato nella action URL fatte così o al limite dei link richiamare questo script questa stessa pagina che state vedendo indicando nella query string quindi usando il metodo get il servizio richiesto il task e il compito da svolgere sta per avvenire la consegna e notate come sia facile seguire il flusso del codice anche se poi gli include che tramite sotto possono sottintendere dei grossi script a seconda del task richiesto qualche volta ci si limita a comandare direttamente l'include io qui rispetto al sito ho sfruttato quella misura di sicurezza che prevede la presenza degli include una cartella che è esterna a quella pubblica ma totale che non possano neppure essere in qualche modo saccheggiati cartella include che può poi essere ulteriormente suddivisa in aree a seconda di ciò che si deve fare quando si tratta di presentare i dati formattarli o stamparli come in questo caso abbiamo la cartella sotto cartella presentation e viene chiamato lo script form.inc beh, se preferite chiamarlo .php va bene lo stesso naturalmente in altre situazioni come quando si chiede di elaborare i dati di una form si organizza anche per imporre un'ulteriore misura di sicurezza qua è impossibile andare ad elaborare una form senza prima impostare a false questa form beh, se la vogliamo utilizzare form valida ed è chiaro che lo script che viene qua richiamato dovrà fare tutta una serie di controlli ma include sotto cartella logic process inc se i dati supereranno il controllo poi vedremo alcune tecniche per svolgerlo questo controllo allora lo script assegnerà true alla variabile dollaroform valida e qui sotto solo in questo caso superato i controlli previsti qui andremo a richiamare includendo lo script la parte che mostrerà all'utente i risultati questo end inc altrimenti andremo a riproporre la form per far ripetere l'inserimento dei dati stessi non manca un caso pigliatutto il default che andrà a richiamare questo index inc dove è il vantaggio di questa architettura che in ogni passaggio è facile capire qual è la parte qual è lo script che è responsabile per il filtraggio e il controllo dei dati non è possibile è evidente guardando questo codice richiamare un qualcosa che elabora i dati di una form quando questi sono tossici se avremo scritto come si deve la parte che fa i controlli e quando qualche dato non valido sfuggia a questi ultimi non andremo a cercare chissà dove in mezzo a migliaia di script sappiamo che il responsabile è questo l'altra tecnica è anch'essa basata su una forma spinta di inclusione ma prevede che nell'area pubblica accessibile siano presenti tanti script come abbiamo visto finora in tutti i nostri esempi durante questa playlist però ciascuno di questi dovrà includere nella sua area iniziale uno script che implementa tutte le misure di sicurezza questo script per gestire il filtraggio dei dati in ingresso organizzerà uno switch che applicherà dei controlli a seconda della form o dell'oggetto che comunque ha inviato i dati seguendo l'esempio ogni form dovrà avere un campo chiamato form che contiene nella natura il tipo della form che ha inviato i dati fosse quel del login la variabile form dovrà contenere login in modo che poi lo script possa fare i controlli del caso andiamo a vedere come potrebbe essere organizzata la login anche questa copiata dal sito phpsec.org ho fatto un po' il pigro la form invierà i dati a questo nostro script di ricezione dati che includerà questo così come tutte le altre form presenti nel nostro sito per consentire allo script che deve fare i controlli di sapere cosa fare sarà sempre presente questo campo di input nascosto hidden che precisa la natura della sorgente dei dati una form e qui il tipo della form è la form per il login il nostro impianto di sicurezza prevede di accettare dati soltanto da form che hanno oltre a questo identificatore questa configurazione di campi di input cioè un campo di input che ha come name username e come quest'altro che ha come name password tutto il resto dovrebbe essere rifiutato come fa il nostro script di sicurezza a forzare questo controllo? quindi immaginatevi questa form che al submit richiama questo script che ha incluso questo lo switch indirizza a questo case perché trova nei dati di post la variabile con il name form il suo valore è login per cui verrà eseguito questo codice che crea un array in cui vengono poi aggiunti tre elementi ciascuno con il name di un elemento che è considerato accettabile la nostra form prevede questo questo e questo un di più o un di meno viene considerato un rischio alla sicurezza ecco perché si procederà con l'elaborazione dei dati soltanto dopo aver confrontato questo elenco di campi di input accettabili con quali ricevuti quelli ricevuti sono estratti dai dati di post in questo modo array keys dal loro post se siamo arrivati qui perché veramente ci ha indirizzato una nostra forma regolare allora troveremo che la configurazione dei dati ricevuti combacerà con quella preparata qui come accettabile e potremo procedere a includere lo script che andrà ad elaborare i dati naturalmente questo è solo un esempio e cioè non è che la tecnica di inclusione preveda per forza questo schema il concetto importante è semplicemente quello che vede l'inclusione della parte del controllo in tutti i nostri script con delle tecniche standardizzate poi se devo essere sincero preferisco mi piace più la pulizia e l'architettura della prima tecnica ma naturalmente può essere anche soggettivo nella seconda parte di questa lezione andremo a considerare alcuni esempi di tecniche di controllo dei dati tutti quei controlli che andremo a recuperare con gli include visti fino ad ora a risentirci grazie a tutti